Le condizioni attuali della struttura impongono la sua chiusura e il trasferimento dei migranti in vista anche degli interventi di ripristino, peraltro in parte già autorizzato dall'amministrazione dell'interno. In questa direzione, e quindi quella della chiusura, il prefetto di Agrigente ha disposto ai necessari accertamenti per l'individuazione dei siti in grado di accogliere temporaneamente gli immigrati prima dell'inserimento in uno dei carri governativi o in una delle strutture dello SPRAR, collaudati sistemi operativi che consentono di gestire con interventi ordinari anche le situazioni di forte criticità, come quella che lei ha evidenziato. Grazie, Sottosegretario. La deputata Maria Iacono ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego. Sì, io sono parzialmente soddisfatta della risposta del signor Sottosegretario. credo che, diciamo, procedere anche nella direzione di una chiusura temporanea per la sistemazione della struttura stessa sia essenziale, ma credo che l'attenzione vada ulteriormente rivolta, non appena appunto sarà possibile riutilizzarla a fini che le sono propri, per diciamo fare in modo che non si verifichino più situazioni di quelle che si sono verificate in questi giorni e che appunto sono, lo ripeto, non da condizione di un Paese civile, perché la situazione all'interno di questo centro che io ho potuto vedere, diciamo, attraverso la mia visita è davvero, diciamo, non degna di un Paese civile. Penso che quindi, oltre a un urgente piano dei trasferimenti degli immigrati che arrivano, ci sia la necessità di attenzionare anche in maniera davvero diversa da come è avvenuto finora.